Mancano meno di dieci giorni al campionato italiano di mezza maratona, trofeo città di Agropoli in programma per domenica 15 ottobre. Manifestazione sportiva organizzata dall'AS Atletica Libertas Agropoli con il patrocinio del Comune. La cittadina è pronta ad accogliere i tanti atleti professionisti, top runner, provenienti da tutta Italia, che si contenderanno i titoli italiani in palio per le categorie Junores, promesse e assoluti al maschile e al femminile. E inoltre il titolo italiano di società. Saranno presenti alla manifestazione, quindi alla cerimonia di assegnazione dei titoli, il presidente nazionale della FIDAL, Alfio Giomi, il campione olimpico, vincitore della maratona alle Olimpiadi di Londra, Stefano Baldini, la dottoressa Manuela Olivieri, moglie di Pietro Mennea, ideatore della manifestazione che da sempre ne fu il testimonial. Per promuovere lo sport e l'atletica in particolare si svolgerà la stracittadina, corsa podistica di soli due chilometri, con partenza alle 9.30 in via Risorgimento, aperta a tutti e da correre a passo libero. La stracittadina sarà l'occasione per una raccolta fondi volte ad aiutare le European Earth of Children, impegnate in campo internazionale per curare bambini nati con malformazioni cardiache. L'Agropoli Alf Marathon è una gara podistica di 21 chilometri su strada che si svolge nei comuni di Agropoli e Capaccio Pestum, con partenza ed arrivo ad Agropoli. La manifestazione è diventata un punto di riferimento per i tantissimi atleti, soprattutto professionisti, che vi prendono parte. Sono infatti oltre 2.000 le iscrizioni alle ultime edizioni disputate. Lo scenario in cui si svolge è altamente suggestivo, dal mare cristallino di Agropoli ai mestosi templi di Pestum, tra le mura dell'antica Poseidonia e respirando il profumo della fertile campagna circostante.